I propri occhi. Tutto ciò che hanno al mondo sta per andare in pezzi. La casa si è spezzata in due come un biscotto. Dalle fratture schizzano frammenti di materiale isolante che si spandono intorno come coriandoli. Acqua per prendere le forme di unico. La furia del Santa Clara Creek sembra non volersi arrestare e tiene tutti col fiato sospeso. La calamità. Magari stavolta, giusto qualche metro più in là. Magari stavolta, giusto qualche metro più inverno come coriandosi.